Ma adesso arriva un momento a cui noi teniamo tanto, perché ci sono state tante persone che hanno lavorato in questi mesi dietro questa manifestazione e tanti di loro sono i giovani di questa parrocchia e sono proprio loro adesso ad entrare in scena con un mimo che si intitola La Sedia. No signore, uno se, due no. La base? No signore, uno se. 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 No signore, uno signore, uno signore, uno signore. No signore. Deborah, Alba, Ludovica ci rivedremo più tardi, grazie ragazzi